Ciao a tutti, sono Alisha Graffanti, conosciuta anche come la diva del tubo. Sono un influencer e una dominatrice. Una dominatrice? Sì. Una dominatrice di cosa? Di uomini. Sicuramente io domino uomini per lavoro, produco video fetish, tra l'altro ho sentito ci sono dei feticisti. Mi tratto male più guadagno, però alla fine... A pagamento? Eh beh, ovvio, ovvio, si fa tutto per il cash, Barbara. Io sono una testimonia... Il mio lavoro, posso spiegare in cosa consiste esattamente, io sono una produttrice di video fetish BDSM, cioè io faccio video in cui pratico ballbusting, che sarebbero i calci nelle palle oppure altruista. Quindi tu ti fai pagare per dare dei calci nei genitali maschili. Allora, hai inventato una nuova parola, ovvero decoglionarli, io li decogliono. Speravo che Vittorio fosse qua dal vivo stasera per fargli provare qualcuna. Due calci nelle palle, Vittorio. Ma non voglio provare niente. Tu, Barbara D'Urso, potresti provarla questa ragazza? Io, ma io capisco di avere moltissime palle, il giro ce ne ho tante, però anche i calci nelle palle che mi sono fatto uscire anche no, grazie.